47 anni e non dimostrarli, la Sagra di Torano raggiunge un record annoverandosi tra le più antiche d'Abruzzo. Per il sindaco Alessandro Rigiacinto, da sindaco da primo cittadino, è la terza edizione. Da amministratore comunale sono ben 13 anni che segue l'evoluzione, sempre in mellius, di questa carmesse gastronomica. Dunque 47 anni, taglio del nastro tra qualche istante, cosa ci prospetterà questa stagione 2016 per l'evento di punta di Torano? Sì, è sempre un'emozione tagliare il nastro per l'apertura di un'edizione della Sagra. La mia, come dicevi, è la terza da sindaco e la tredicesima da amministratore comunale. Ogni anno la Sagra presenta delle novità, ogni anno tutti i toranesi aspettano l'evento e Torano praticamente si trasforma in un ristorante all'aperto. Ogni toranese è ben orgoglioso di accogliere e far degustare i propri prodotti a tutti i visitatori. C'è un'immagine davvero suggestiva per chi guarda Torano dal basso, e cioè questo paese illuminato e soprattutto questi fumi che in qualche maniera sono un po' l'effetto speciale che annunciano che c'è la Sagra. Oggi e quest'anno soprattutto con una grande novità, una partnership tra Proloco e la neocostituita associazione commerciante. Sì, questa è, come dicevi tu, è una novità, nel senso che gli operatori commerciali per la prima volta danno una collaborazione e un aiuto alla Proloco nell'organizzazione della manifestazione. Questo è stato chiesto dalla Proloco nei mesi precedenti e devo dire che immediatamente dopo delle riunioni convocate anche in comune da me, subito gli operatori si sono dimostrati ben favorevoli a questa nuova partnership.